E' in questo caso per favorire gli amici di Oskiri e facciamo un bellissimo applauso a Oskiri e a questa formazione che sta tra Sassari e Oglia, una località molto ricca di tradizioni, di gusto di Saspanadas, guardate anche il gioiellino che hanno portato questa sera, quel bambino che merita un applauso tutto per lui perché è una forza della natura. Intanto chiediamo a questa associazione che insomma alla Madonna di Castro dedica il suo nome di eseguire questo ballo e poi li saluteremo da vicino. Carlo Boettu, gli amici di Oskiri. Oh, baby! Grazie. 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 Grazie.